Il gruppo di opposizione alla Tella in un'interpellanza che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale a Borgaro Torinese. Le istituzioni non possono e non devono rimanere insensibili al tema, afferma il gruppo. Risulta pacifico per la risoluzione del problema e la competenza della città di Torino. Quindi, considerando che fino a oggi nulla di concreto è stato realizzato, risulta necessario affrontare in maniera unitaria la questione al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Perciò chiediamo, si legge nell'interrogazione, di voler invitare come previsto da regolamento alla discussione nel Consiglio Comunale di Borgaro il Sindaco di Torino Chiara Appendino, nonché al Sindaco Gambino di voler produrre documentazione a riguardo per chiedere la chiusura del camper om abusivo sito in strada dell'aeroporto, nonché regolamentare dettagliatamente il campo autorizzato. Goccia che ha fatto traboccare la protesta è stata la morte di Oressa e Giannotto, investito da un camper condotto da una rom. Gli animi si accendono alle manifestazioni di protesta che si stanno susseguendo, l'ultima lo scorso 10 giugno, si stanno infiammando sempre di più, assommendo una connotazione politica sempre maggiore. Gli onorevoli Antonio Boccuzzi e Paola Bragantini fanno sapere che si occuperanno di far da tramite alla famiglia di Oressa e Giannotto per ottenere giustizia. Non soltanto cittadini e gruppi politici, ma anche i rom protestano contro queste manifestazioni che ritengono alimentino l'odio e il razzismo. Sostipo nel quartiere, sostipo nel quartiere, sostipo nel quartiere, non lo voglio, sostipo nel quartiere, non lo voglio, criminalità, lottiamo per cambiare la nostra città. Per fargli capire che al di là del partito che uno vota, il problema di queste persone è per tutti, perché mio padre non stava scalando l'Everest, mio padre stava tornando a casa dalla sua, dalla sua famiglia, con uno scooter, aveva il casco in testa e stava percorrendo una strada alle 12.30 di giorno. Quindi mio padre non era in una condizione di pericolo, è stato ammazzato, non soccorso. Spaghetti! 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 Che buono! Spaghetti! 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 Grazie a tutti.